Raka potrebbe cadere nel giro di qualche settimana, lo afferma il comandante delle milizie kurde YPG, Sipan Hamo. Un attacco contro la roccaforte dell'ISIL starebbe per essere lanciato dalla coalizione guidata dagli Stati Uniti. L'annuncio arriva mentre le operazioni militari russe stanno consentendo alle forze governative di avanzare in varie zone, come intorno all'Atakia, dove hanno ripreso il controllo di cinque villaggi. Le precedenti conquiste dei ribelli nella provincia erano arrivate a minacciare i collegamenti tra Damasco e la vicina base militare russa. Washington intanto sta inviando ai ribelli rifornimenti di armi e munizioni più massicci che in passato. Il capo del fronte al-Nusra, Ramo Siriano di Al-Qaeda, Abu Mohammed al-Jolani, ha preannunciato vendette contro Mosca, invitando anche i jihadisti del Caucaso a colpire il nemico. A Damasco stamattina due razzi sono caduti sull'ambasciata russa, creando il panico tra le circa 300 persone che vi erano riunite in una manifestazione di sostegno all'intervento di Mosca.